Io sono Pietro Visconti e sono il Security Director del gruppo Unieuro. Da questo sito che insiste su 120.000 m2 parte la merce destinata a tutti i nostri punti vendita in tutta Italia e da qui partono anche gran parte delle consegne, degli ordini che vengono effettuati attraverso il canale web. Come sapete Unieuro è l'azienda leader in Italia e per fatturato e per numeri di punti vendita. Nell'arco dell'anno esprime un fatturato molto importante, superiore a 2 miliardi e 7. Gran parte di questa merce su base annua transita attraverso questo sito. Le esigenze di sicurezza in realtà prese per titoli sono sempre molto simili. Si tratta del controllo del ricevimento merce, si tratta di controllo accessi, si tratta di presidio del sito. Noi con Metronotte lavoriamo in maniera indiretta da più di 4 anni e in maniera diretta in particolare su questo sito da almeno 3 anni. È un partner che ci aiuta a presidiare una situazione di importanza strategica sempre molto presente. Secondariamente la velocità riesce a darci risposte in tempi compatibili con le nostre esigenze, sia che siano emergenziali sia che siano di carattere organizzativo. La flessibilità. Il nostro business vive di momenti diversi, di intensità diversa e il nostro partner ci deve seguire in queste oscillazioni che sono naturali per il nostro settore ma possono essere un pochettino meno naturali per un fornitore di servizi. E poi la proattività. Abbiamo apprezzato moltissimo, sia in fase di progettazione delle modalità di protezione del sito quanto in fase di operatività ordinaria la spinta che questo partner ci fornisce in maniera tale da tendere a un miglioramento senza che debba essere in qualche modo diretto necessariamente solo o dal cliente o dall'altro. Una partnership che ci permette di procedere in maniera ricorsiva verso situazioni sempre più efficaci. Possiamo dire di essere riusciti a ottenere un livello di sicurezza di cui siamo assolutamente soddisfatti. Grazie a tutti.